Francesco Maisano del Tg1, prego. Buon pomeriggio, avete parlato di cooperazione per la lotta ai trafficanti, volevo chiedere come si sostanzia questa cooperazione, in che senso il Regno Unito guarda anche al modello albanese, al rapporto dell'Italia e dell'Albania e anche un aggiornamento sui tempi di implementazione di questo nostro progetto, grazie. La ringrazio, dunque come si sostanzia questa nostra cooperazione, come dicevo noi ci stiamo concentrando chiaramente, come lei sa, la strategia che il governo italiano ha messo in piedi sul contrasto all'immigrazione illegale, è una strategia molto ampia e c'è una cooperazione che viaggia a 360 gradi, da una parte combattere i trafficanti di esseri umani, su questo il lavoro che noi stiamo facendo è soprattutto un lavoro di messa a sistema del lavoro che fanno soprattutto i nostri servizi di polizia, i nostri servizi di intelligence, fino ad arrivare a ragionare un domani di rendere il più possibile armoniche le nostre legislazioni su questa materia. Il tema è che noi oggi ci confrontiamo con organizzazioni di esseri umani che sono, che fanno il traffico di esseri umani che sono molto potenti, molto lunghe. Oggi si fa un accordo con un trafficante in Bangladesh, si attraversano cinque nazioni e si arriva in Italia su un barchino e questo offre la dimensione di quello con cui noi abbiamo a che fare. Chiaramente nessuna nazione da sola può essere efficace nello smantellare queste reti di trafficanti se non si lavora a 360 gradi, partendo ovviamente dal coinvolgimento dei propri alleati, dei propri partner, ma anche di tutte le nazioni di origine e di transito, che è il lavoro che noi stiamo facendo. Su questo noi stiamo facendo un lavoro particolare che riguarda soprattutto come far lavorare meglio insieme in maniera più strutturata i nostri servizi di polizia, i nostri servizi di intelligenza e come coinvolgere, lo dicevo prima, meglio Interpol e Europol, cioè strutture che noi abbiamo già che dal mio punto di vista dovrebbero avere proprio delle sezioni dedicate a questa materia. Chiaramente sono temi che bisogna discutere anche con tutti gli altri partner, ma questa è la discussione che stiamo facendo da una parte. Dall'altra lei sa che c'è tutto il lavoro in termini di cooperazione con i paesi africani, che è anche un lavoro che interessa ovviamente anche il Regno Unito, sul quale stiamo cercando le sinergie che partono anche, ricordo, dal G7 dei leader, dalle iniziative con le quali abbiamo messo insieme da una parte il Piano Mattei, dall'altra il Global Gateway dell'Unione Europea e dall'altra il PIIG del G7 per capire come questa nuova cooperazione con i paesi africani possa mettere anche qui a sistema il lavoro che le singole nazioni fanno. C'è un lavoro, come dicevo, concreto che facciamo sui rimpatri volontari assistiti, particolarmente in questo caso c'è un impegno britannico che si è già materializzato per i rimpatri volontari assistiti dalla Libia, quindi è anche un lavoro che serve a cercare soluzioni per anche aiutare le nazioni, soprattutto del Nord Africa che altrimenti rischiano di essere lasciate da solo di fronte a flussi che arrivano anche da altre nazioni. Quindi è un lavoro a 360 gradi. Albania, io chiaramente ho visto molto interesse da parte del Primo Ministro, ma poi questo credo che ovviamente nel caso dovrebbe dirlo lui. Sicuramente il modello che il governo italiano ha immaginato di centri per processare le richieste di asilo degli immigrati che sbarcano sotto giurisdizione italiana ed europea in un paese straniero è un modello che non era stato sperimentato da nessuna parte. Se funziona, tutti come io credo funzioni, tutti capiscono che può diventare una chiave di volta per affrontare in maniera diversa il tema dei flussi migratori, anche per l'elemento di deterrenza che produce rispetto a farsi, diciamo affidarsi alle organizzazioni dei criminali. È anche la ragione per la quale, come lei sa, come tutti sapete ormai stiamo lavorando a questo progetto con estrema serietà, il che richiederà, da quello che ho capito ancora qualche settimana, perché sia perfetto. Però guardi, come ho detto già in passato, avrei preferito che iniziasse prima, però so che abbiamo gli occhi del mondo puntati giustamente su questa iniziativa e quindi credo che debba essere fatto nel migliore dei modi e se serve qualche giorno in più, come non mi dispiaceva qualche settimana fa, non mi dispiace neanche adesso. Però credo che, insomma, parliamo dell'ordine di qualche settimana.